Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 33 anni, sono un'attrice e ho il cancro. Questa è la mia storia. Per la prima volta nella mia vita sono stata scelta per uno spot. Ebbene sì, mi ha scelto Lilt Biella per la campagna potresti essere tu per la prevenzione oncologica. Devo dire che ero molto molto contenta, ovviamente non sapevo nulla della mia situazione. Ho fatto il casting, sono stata presa e poi dopo ho girato lo spot. Dopo aver girato lo spot ho avuto la conferma che ero malata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la prevenzione innanzitutto è importante. Io l'ho sempre fatta perché nella mia famiglia ci sono stati dei precedenti e questa campagna è davvero importante per la prevenzione di tutti i tipi di tumore. Vabbè comunque dopo questa serietà una cosa, speriamo che adesso non mi prendano anche per lo spot delle emorroidi.